Salve a tutti, io sono TheLongamer e benvenuti nella prima parte della demo di Devils in Me. Tranquilli, anche la seconda esce oggi, ok? Datemi il tempo di editare il tutto. Siete pronti ad entrare nell'hotel più mortale al mondo? Infatti, le disavventure di questo nuovo capitolo hanno un fondo di verità. Si basano sulle reali vicende avvenute nell'hotel di H.H. Holmes, il primo assassino americano che pare uccise oltre 200 persone alla fine del 1800, di cui 150 forse almeno nel suo hotel. Ci attendono 5 nuovi protagonisti che ovviamente moriranno fra atroci sofferenze. Mentre sveliamo nel frattempo nuovi inquietanti misteri. Ritorna anche il caro buon vecchio curatore e molto altro. Il gioco uscirà effettivamente fra un mese e sì, ci faremo tutta la serie sul canale, mi raccomando non perdetevela. Per ora invece, guardiamo velocemente un video inserito nel gioco che ci farà capire chi fosse quel pazzoide del signor Holmes. No, non Sherlock, quello è un altro. Qualcuno sapeva come divertirsi, direi. Era uno che ci teneva al riciclaggio, è per inciso. Torture doctor, monster of 63rd street. H.H. Holmes was America's first serum killer. Arriving in Chicago, Holmes finds work immediately at the E.S. Holton drugstore. Several months later, Everett Holton dies of supposed natural causes. Certo. Cose che capitano. Cosa che capitano. Cosa che era una storia da Roma, lui? Cosa, qui ha fatto il nostro sogno di limite? Perché è un'occhiata, che sarà un'occhiata per cui il mondo le ricordano. L'occhiata per il mondo. so impressed with the massive building that they named it the castle. Holmes himself was the architect of the building. He was the only one who knew its design. There was this constant turnover of workers on the building. He would hire a mason to put in a wall and then fire the guy or hire somebody to put in part of a staircase and then fire. One was he managed not to pay a lot of these people because he was always claiming that they were doing incompetent work but the other much more insidious reason was that no one except him really had a clear idea of what the structure of the interior of the house was. Ah, le ricostruzioni che fanno gli americani perché questi documentari sono bellissime. Da quello che ho capito le pareti si muovevano addirittura, no? Non sto scherzando. Aveva creato passaggi segreti e tutto il resto. Il secondo flore che contiene 35 ruote molte specificamente designate come cimbre. La construzione labirinthiana contiene numerose staircase e doorways che non si è andata. No, che tortura psicologica. In realtà la signora si perdeva anche in casa propria, eh? Ma vabbè, dettagli. Sono il conteggiaco, la minchia! No, vabbè, scusate, ho sbagliato. Per un rapido metodo di scendere del corpo di un'attività un'attività di scuola e un'attività che si è andata direttamente in il basso del castello. Però sì, ha ragione anche lui, eh? Non puoi lasciare i cadavri in giro che poi magari qualcuno ci inciampa e magari ti denuncia. E devi ammazzare anche lui. Cioè, è un casino poi, insomma. Poi puzzano, c'hanno le mosche che gli ronzano attorno. Ecco qua. Problema risolto. Ah, è vero! Vendeva poi gli scheletri alle università. Ve l'ho detto che era un uomo che era molto attento al riciclaggio. Ok, non andrei troppo oltre. Direi di passare direttamente al gameplay. Almeno vi ho contestualizzato il luogo, il personaggio e tutto il resto. Preparatevi perché ne vedremo delle belle, signori. Ok, la demo dovrebbe durare più o meno un'ora, un'ora e un quarto e ci butterà direttamente all'interno dell'azione. Quindi non vedremo l'inizio, vedremo uno dei capitoli più avanzati e ovviamente cominceremo a muovere i primi passi all'interno dell'hotel e ci sarà già l'assassino. Sì, purtroppo c'è già l'assassino. Pronto a trucidarci in maniera molto, ma molto violenta. Allora, essendo una demo, l'audio in italiano ancora non c'è, ma ci sono i sottotitoli in italiano quando uscirà la versione finale il mese prossimo, ovviamente sarà anche correttamente doppiato in italiano, va bene? Pronto? Launet Entertainment. Charles Launet, please. Speaking. My name is Grantham Dumet. I'm in a privileged position. Hear me out. So, what do we know about this guy? He's rich, he's a recluse, he's obsessed with H.H. Holmes. Totally sane, I'm sure. We're going to a property he inherited from a relative. Some of the rooms are full recreations from the murder castle. Dumet has blueprints, documents, artifacts. when I said this would save the show, I was not exaggerating. That him? Oh no, siamo su un'isola. I don't know where she was about in the first place. Actually, I didn't ask. Mr. Dumet, this place is magnificent. It's amazing. This is intense. Erin, cigarette. Blue backpack. Give me ten, then we should get a rough plan for getting our first shot. Can we plan after dinner? I want to be shooting after dinner. Okay, we'll be down in a few then. Oh, Erin, I checked my blue bag. No cigarettes. That's where I put them. Come and show me. Maybe one of us is colorblind and doesn't know what a blue bag is. Io sono dal tonico, scusate. Chi sarà il primo a morire, secondo voi? Io penso il tizio delle sigarette già mi sta sulle palle. Ovvero il regista. Charlie, camera di Charlie, 19, 27, 26 ottobre. appena che giorno è oggi? È il 24, ok? Kate wanted you to have this. Breaking down walls, navigating the maze of anxiety. Are you fucking kidding me? Ah, cominciamo bene. Absolutely not. I'm not stressed. Non poco. Direi che è in crisi da stinenza da nicotina. non rispondere. Non rispondere. Oh, sì, in bossing. Makes a huge difference. You old guys love business cards. You old school. You old school. Brava, brava, brava. Charlie può usare il suo biglietto da visita per aprire i cassetti chiusi a chiave. Ma va? Istruzioni o disperazione? Cerchiamo di essere educati perché sto tizio ha le palle girate ma over 9,000. Stop tearing around in there like a maniac. Be organized about it. Metodical. Blue bag, front pocket. I made a specific mental note of it. They're gone, Charlie. Gone? Just like that? Are you saying somebody took them? I, I don't... Actually, I can see Kate doing that. Or Jamie. I'm sorry. Lucidità o frustrazione? Facciamo finta di nulla, ciccio. Devi sopravvivere senza sigarette e non puoi rompere le palle a tutti. La nottata è ancora lunga? A meno che non muori prima. Let's just get on with things. This place is massive. Surely there is a pack of cigarettes in the house. Even if they're ancient. You need them that bad? There was a bar off the lobby. There must be cigarettes in the bar, right? I mean, technically it's not legal to smoke in bars, so... Come on, we're checking. If you find them first, all will be forgiven. Wow! Un grande professionista, eh? Senza le sigarette, popo, sto tizio non lavora e non ragiona. Allora, la versione finale del gioco, inoltre, avrà anche l'illuminazione in ray tracing, quindi avremo i big riflessi e... anche le luci stesse risulteranno molto, ma molto più realistiche. Non è una funzionalità attiva all'interno della demo per adesso. Vediamo un po'. Ci saranno un sacco di oggetti con cui interagire. Inoltre, ognuno dei personaggi ha delle specifiche abilità. Sì, certo. Ah, ok. Ora va molto meglio. Scusate, ho dovuto abbassare la sensibilità della telecamera perché prima schizzava in qualunque direzione. lui, peraltro, ha un accendino quindi può illuminare le varie zone in caso di necessità. Dovrei esplorare tutto perché sapete molto bene che ci sono anche gli indizi sulle morti dei vari personaggi. Cos'ho trovato? Un biglietto da visita? Ah, è il proprietario. Grant Dume, architetto. Grant Em, che poiettino ma è? Ok, un biglietto da vita molto spartano in effetti. Quindi sto tizio ha ricostruito da capo l'albergo della morte, il castello, l'hotel dove sono morte 200 persone. Ma che cocchia ti dice il cervello? Io ho capito che sei un appassionato e molto probabilmente sei il serial killer. No, vabbè, sarà sicuramente qualcun altro. Abbiamo trovato un bottone? Una spilla? Ha detto che dovrebbe valere qualcosa. Ok. Dei gettoni. Con il simbolo della morte. Cosa mi sono perso? Probabilmente sono dei collezionabili che dobbiamo cercare mentre esploriamo l'hotel e mentre cerchiamo di rimanere in vita. Quanti grandi sto posto? Mamma mia! No, vi giuro ragazzi mi sta salendo già un'inquietudine di proporzioni bibliche. Come ho detto la gente inizierà a morire già da subito all'interno della demo. La maggior parte delle stanze per adesso sembrano essere chiuse. Erin! Datti una calmata ti licenzo donna. Vediamo un po'. Abbiamo trovato una lettera scritta da Grant Mdume e indirizzata a Joseph Morello. Signor Morello buonasera grazie per avermi permesso di scriverla direttamente. Il suo editore mi ha riferito del suo interesse riguardo alla mia proposta. A quanto pare abbiamo una passione in comune. Ho dedicato molti anni alla riproduzione del World's Fair Hotel creando la più accurata attrazione turistica su H.H. Holmes mai concepita. Non siamo ancora aperti al pubblico perché restano ancora alcuni dettagli da sistemare. In questo senso ritengo che una persona con le sue conoscenze potrebbe fornirci indicazioni preziose e desidero invitarla a trascorrere il fine settimana nel nostro albergo ed era così che lo stesso assassino il signor H.H. Holmes trovava le sue vittime le chiamava all'interno dell'hotel vieni che ti godi un riposo eterno. L'esperienza è pensata per gruppi di 5 persone per cui essendo l'invito ha 4 amici o familiari a sua scelta. Le ricordo che questo soggiorno deve restare strettamente riservato finché la struttura non sarà svelata ufficialmente per cui le chiedo di farsi accompagnare da ospiti di comprovata riservatezza. Mi auguro accetti il mio invito attendo conferma della sua presenza e di quella dei 4 accompagnatori qualora accettasse una limousine passerà bla 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 sono certo che troverà l'esperienza molto stimolante oddio forse questo è veramente un appassionato e diciamo che forse un copycat un emulatore del suddetto assassino ha colto l'occasione al balzo per fruttare l'ambiente in modo tale da avere sì in effetti tirchio maledetto è solo una stupida idea Charlie un'assistente 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 e poi potrei aiutare con l'edit pardon l'edit l'audio mix guarda io penso che hai tanto da dare tanta esperienza e è un'opportunità di passare questo knowledge è un'assistente e l'assistente non perdere le mie cigaretti ah e basta con queste cigarette orco cane datti una regolata ciccio già peccato che bloccano la nostra via di fuga quindi per aprire la suddetta serratura c'è stato un click per un secondo tipo più o meno qui perfetto quindi adesso dovremo poter aprire il cassettino e voilà ok all'interno abbiamo trovato una cartolina con scritto benvenuto cos'è un fiore ah è un segreto 10 agosto 1992 signor Monday grazie di aver scelto Twilight Prairie come residenza per sua madre Lucinda si è già ambientata meravigliosamente come sa invitiamo i parenti a fare visita ai nostri ospiti quanto più possibile speriamo di rivederla presto Linda Price direttrice ok qualcuno ha messo la madre in un ospizio chiamiamolo così probabilmente un ospizio per ricchi ovviamente possiamo anche dare una letta al libro lì delle presenze si questa squadra è molto disfunzionale se non si fosse capito peraltro la famiglia Morello aspetta sono quelli di cui abbiamo appena letto sulla lettera al piano di sopra ed infine gli ultimi nomi sono effettivamente i nostri Charlie Lonit che è il personaggio che sto controllando io e via dicendo quindi qualcun altro è venuto proprio una settimana fa buono sapersi e se provassi ad andare indietro gioco dice manco per il cocchio ok non siamo gli unici quindi altre tre famiglie o tre gruppi di persone sono venuti qui in passato mi domando se siano sopravvissuti è una domanda legittima o se siano stati uccisi o catturati ancora peggio dal serial killer o potresti anche darti una regolata e cercare di resistere per una notte la maggior parte delle porte sono chiuse e che cocchio vediamo un po' niente con cui possiamo interagire pertanto questo dovrebbe essere il baretto vai Charlie le porte con serrature possono essere aperte con una chiave ah e il problema è che io la chiave non ce l'ho oh oh qualcuno aveva il guanto o no e ovviamente è sparito perché mai una cocchia di gioia non ti fai due domande sul perché la chiave che ti serve sia esattamente sul bancone no non l'hai trovata te l'hanno praticamente consegnata in mano porco cane mio dio davvero l'atmosfera è anche troppo lugubre per quello che mi riguarda ah inoltre adesso ci saranno anche elementi di non dico di parkour ma diciamo che il movimento dei nostri personaggi è decisamente molto più dinamico che in passato ora dobbiamo dire con cosa interagire ovvero la chiave c'è un sistema di inventario come potete notare la chiave è stata utilizzata quindi presumo olè che sparirà dall'inventario e basta quindi la poverina soffre di asma aspetta che accendo che non si vede praticamente nulla e non è cambiato più di tanto oh mio dio signore mi ha fatto cagare in mano salve oh ma no non ridere sto coso ti ucciderà non penso funzioni per davvero non ti ci avvicinare guarda a caso un singolo pacchetto di sigarette cioè con le persone si comporta di merda ma col robot invece è molto ma molto educato aspettate che do un'occhiata in giro maronne è stra inquietante c'era anche una un'etichetta sul collo del robot che mi è sembrata abbastanza sospetta vediamo un po' se c'è qualcosa da queste parti ed in effetti abbiamo trovato una cosa medica di che si tratta wow oh oh brutto modo di andarsene charlie ora sappiamo come verranno sbloccate le premonizioni con i cosi di medicina si perché il signor H.H. Holmes come ho detto era un tra virgolette un dottore quantomeno aveva studiato medicina e tutte cose da quello che mi pare di aver capito non pensavo effettivamente che il gioco si basasse su eventi veri ci sono rimasto un po' di stucco ok vediamo un po' abbiamo trovato un'altra lettera un altro segreto venerdì 17 novembre 2017 signorina Kelly Schroeder vorrei ringraziarla nuovamente per l'incredibile lavoro che lei e la sua squadra avete svolto all'hotel le porgo inoltre le mie più sentite condoglianze l'incidente che ha coinvolto gli uomini della squadra sul lago non può che definirsi una tragedia e io in parte mi sento responsabile per onorare la loro memoria ho passato mesi a curare gli ultimi dettagli e posso affermare con orgoglio che siamo quasi pronti all'apertura mi permetta di esprimerle la mia più sincera gratitudine per sdebitarmi sarei lieto di invitare lei e i suoi collaboratori alla grande cerimonia di inaugurazione che si terrà venerdì 17 novembre 2017 alle ore 19 vi prometto una serata spettacolare con intrattenimento a tema e la musica di un quartetto barbershop sono certo che trarrete ulteriore soddisfazione per il vostro lavoro quando capirete quali esperienze può offrire l'hotel cordialmente Richard Belknap ok quindi c'erano stati dei morti anche durante la realizzazione di questo posto perché ovviamente è mai un accocchio di gioia vediamo un po' ma sono aperte è un pacchetto aperto ma che schifo sono le tue non ti domandi perché le abbiano buttate lì dentro ciccio spaga fuori tutto cosa potrebbe mai andare storto non penso che il robot ti possa denunciare a meno che sto coso non è in grado di muoversi no non credo sia una buona no non è decisamente una buona idea posso interagire con altro c'è effettivamente un'etichetta con scritto bar 0028 ok ho paura che sto coso si muova e vi giuro mi inquieta popona cifra e niente la porta non si apre mi sono appena ricordato del biglietto da visita ok ho sentito clicchiette in effetti per capuzzona tua nonna in cariola ci sono monetine dentro le hai recuperate? il dinghete lo sai benissimo che fanno dinghete quei cosi ok esamina nuovamente e usa la monetina 100 euro che gli si blocca dentro eeeh olè ma guarda un po' oi oi faccio lo picchi lo percuoto eeeh non sapevo nemmeno io cosa percuotere in effetti non metterci la mano dentro ciccio e dai è il destino che cerca di farti smettere di fumare trovo un modo per recuperare le sigarette e che cocchio vuoi fare santo cielo la macchinetta si è spenta arrenditi abbandona il tuo tabagismo che è meglio ok forse è l'occasione giusta per andarsene chi si è visto si è visto oh no è ripartita la macchina no charlie non toccare le sigarette oh oh che sta facendo perché si è attivato non c'è nessuno c'è qualcuno come non detto c'è qualcuno charlie girati charlie girati charlie guarda dietro di te charlie lascia starle oh no oh no oddio vaffancleberin lascia stare che è meglio non fare domande chi dove è andato il tizio oh oh non mi fido di nessun c'era veramente un tizio a sto punto ok vediamo di conoscere anche il resto dei protagonisti mark camera di mark 19 27 di solito la gente comincia a morire dopo le 9 ok abbiamo il cameraman barra fotografo e l'attrice diciamo aia c'è l'inciucio schiettezza o cinismo cerchiamo di essere onesti così non offendiamo nessuno entusiasmo o rassicurazione piccola tu sei perfetta sotto ogni luce si qua c'è l'inchiucione aia ti posso dire una cosa esitiamo dai non era quello che voleva dirti ok la separazione è più dolorosa del previsto sì serio magari si possono rimettere insieme non lo so l'amore trionfa sempre siamo per morire male male signora ha una scopa super il culo ok controlliamo altri segreti usa la telecamera di Mark per cercare soggetti da fotografare il mirino della telecamera cambia colore quando inquadra un soggetto da fotografare sorridi gesù signori per fortuna che vi siete lasciati ciccia posso entrare nella tua camera abbiamo condiviso tanto uno stalker non può più neanche divertirsi santo cielo ok continuiamo a dare un'occhiata in giro questo posto tanto è gigantesco ci saranno segreti letteralmente dovunque Gesù quanto gli è costato realizzare un posto del genere vediamo un po' c'è una stanza dall'aspetto molto inquietante sembra un luogo abbastanza abbandonato il che fa strano visto che l'intero luogo è stato ricostruito da capo e quella sembra una porta in metallo qualcosa di sicurezza che non puoi aprire dall'interno tipo una cella o peggio ammetto che un po' mi aspettavo il jumpscherone oh no ragazzi ne ho trovato un altro prossimo decesso ok questo è stato abbastanza strano allora come al solito possiamo visualizzare il rapporto con i vari personaggi con Kate è abbastanza basso come potete notare con Charlie è misteriosamente alto Jamie non so chi sia per adesso non l'abbiamo incontrata qui abbiamo i segreti ce ne sono 50 ancora una volta la moralità che riassumerà effettivamente le nostre scelte e l'esito che hanno avuto a breve ed a lungo termine e le immagini sono effettivamente le premonizioni che prevedono sia cose buone che cose cattive mi pare che a seconda del colore della cornice possa prevedere uno scenario positivo oppure uno negativo state ovviamente a capire cosa Cocchio ti stia dicendo il gioco ok non mi pare che ci fosse molto altro quindi vediamo di proseguire nella nostra esplorazione qui là gli edifici è quello chi è? perco canaglia posso fare luce con il flash per nulla inquietante aspetta che ho trovato un libro di Joseph Morello e il tizio che era stato invitato era il diavolo in persona la verità sul primo serial killer americano perco can mi ha ciecato dall'uscita del suo primo libro nel 2002 Joseph Morello non ha saputo resistere al fascino delle indagini sui serial killer e sarà probabilmente morto e nessuno ha più stuzzicato la sua curiosità di H.H. Holmes nella sua ultima opera Morello fa il punto su più di 15 anni di ricerche e scritti personali separando i fatti dalla finzione per far luce sulla vera storia del primo serial killer americano cioè il primo ne ha ammazzati 200 quindi il primo aveva cominciato molto bene era il diavolo in persona bella domanda speriamo solo che non ci siano poi così tanti elementi soprannaturali ma col culo che mi ritrovo della serie quando mai nella vita probabilmente ci sarà qualche creatura dall'aldilà ma vabbè dettagli ho notato inoltre che possiamo fare una foto ok questo tavolo che sembra chiaramente danneggiato una lama un coltello un'ascia no vandalo direi più che altro maronne aspetta che possiamo interagire anche qua c'è un libro là in alto ciccio non so se l'hai notato Mark può estendere il suo monopiede per raggiungere gli oggetti fuori dalla portata perché con la manina ovviamente non ci arrivi piccolo stellino pertanto utilizziamo il monopiede vai oh molto molto pratico e l'occorrenza lo tiri in testa qualcuno non mi aspettavo il quick time me ne ero completamente dimenticato dei quick time un altro libro nascite necrologi matrimoni il signor Robert Hall e consorte di silver spring annunciano la nascita della figlia marylyn avvenuta il 10 giugno al white hawk hospital elaine e steven wright di north park annunciano la nascita del figlio moris avvenuta il 10 giugno al white hawk hospital a nome della figlia lucinda monday i nonni george e irene waylon avvenuta l'11 giugno al white hawk hospital perché lo appoggi a terra ci sono 80.026 ripiani ciccio ok vediamo di andare verso il piano superiore ah la porta è chiusa ma c'è una chiave da qualche parte ci fa notare il gioco ok vediamo di dare un'occhiata di qui qui là si inquietante possiamo dare ancora una volta un'occhiata fuori si non ha senso in effetti visto che il tizio ha fatto ricostruire tutto il posto ah eccola lì si perfetto ma la porta è ovviamente chiusa ciccio quindi o sfondi il vetro oppure troviamo una strada alternativa che mi pare la soluzione migliore che schifo ma sto posto non sembra messo poi così tanto male ah sarà l'odore di un cadavere e ah ora possiamo saltare come potete notare i notti personaggi sono in grado di fare movimenti più complessi che boiazza ok salta lì sotto vediamo un po' questo lo possiamo utilizzare ah per andare dall'altra parte perfetto allora metti via quel cocchio di flash e possiamo tranquillamente spostare il suddetto oggetto qua sotto perfetto sali sopra e ottimo siamo arrivati dall'altra parte per fortuna che la parete era distrutta c'è una scala di là aspetta che do un'occhiata ti puoi anche abbassare ciccio ah accucciati ok ottimo e questo casuai mi permette di andare sotto e in effetti non possiamo passare perché il pavimento è tutto crollato probabilmente questa è un'ala dell'edificio oh oh in restauro chi è che mi sbircia da dove oh no oh no 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 quindi l'assassino sa dove mi trovo dove puoi andare a telecamera telecamera dove dove cocchio sei ok qui abbiamo un'altra porta che ovviamente è bloccata sono tutte chiuse per davvero allora possiamo spostare questo si piano ciccio in modo tale da creare vedete ce lo dice anche il gioco con i segni a terra una sorta di piattaforma interme di piattaforma intermedia aspetta che non mi baggo durante la demo sapete che ho un'arte innata per baggare qualunque cosa ovviamente la prima parte di questa serie di giochi di solito serve a farci inquadrare la storia i personaggi la lore e via dicendo la seconda parte invece serve a farmi tirare uno sfaccello di porchi cercando di non far morire i personaggi allora ah pensavo fosse una premonizione porco cane e se potessimo andare di là e il problema è che poi non saprei come tornare qua non ce la fai a saltare vero ciccio credo proprio di no e niente siamo costretti ad andare dicevo come non ho detto perché se abbassiamo la scaletta il problema si risolve da solo pertanto riportiamo la libreria non saprei come altro definirla al punto di partenza e vi sarò tutti felici e morti male ma vabbè dettagli ciccio con che flemma santo cielo datti una mossa perfetto salto uno salto due e oh le ottimo siamo dall'altra parte finalmente quello che mi inquieta è il fatto stesso che noi sappiamo che H.H. Holmes aveva convertito le stanze in modo tale che diventassero delle trappole stile soul enigmista quindi prima o poi ci metteremo i nostri santi piedini ok non vedo molte trappole per adesso sembra tutto relativamente tranquillo ma è la stanza con la chiave ah trovata perfetto prendi la chiave niente jumpscare mi raccomando balconi ottimo il ballatoio giusto giusto allora vediamo di andarcene a gambe elevate non voglio restare qui un secondo in più usa ovviamente la chiave che abbiamo appena trovato quindi vuol dire che non possiamo avere più di quattro oggetti nell'inventario ah sarà un problema forse da tenere in considerazione in futuro ma siamo ritornati nella hall o è una mia impressione oh no la sua fobia sarà utilizzata all'interno del gioco e la sua fobia è la mia fobia peraltro lui rischierà di morire volando di sotto sicuro ciccia stai bene così non rompere le balle insistenza o incoraggiamento tanto non te la dà comunque ma evitiamo di essere maleducati continuo a fare il marpione ma non funzionerà all'infinito beh sarà una replica ovviamente cosa fa con quella manina a non mettere la manina che gli porca troterrima lo sapevo ti odio nel profondo bel trucchetto comunque stai lontana che c'è un coltello ti odio nel profondo gioco scusate donna non rompe i maroni santo cielo ok signori io direi che per questa prima parte della demo ci possiamo fermare qua come dicevo la seconda uscirà in giornata tranquilli datemi solo il tempo di montare tutto e via dicendo nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate lasciate un bel mi piace o vi invito in questo meraviglioso hotel e noi ci vedremo in un prossimo video ciao ciao